In un'area territoriale così apparentemente piccola come quella di Mongiuffi Melia, ci sono davvero tanti luoghi interessanti. Come un antico acquedotto, una galleria costruita nella Prima Guerra Mondiale e una splendida valle con cascatelle e piccoli laghetti naturali. Ad accompagnarmi ci sono stati Giovanni Curcuruto, storico e guida locale, e Mauro Siligato, che mi hanno sapientemente mostrato questi luoghi. Ve lo racconterò qui, parlandovi di Mongiuffi Melia. Mongiuffi e Melia sono due piccoli centri agricoli situati sulle pendici del Monte Calfa, a 375 metri di altitudine, all'interno della Valle del Ghiodaro. Si tratta di un comune sparso. Che cos'è un comune sparso? Si tratta di un comune nel quale non esiste alcun nucleo abitato principale che possa essere definito capoluogo, ma più frazioni di pari importanza, ossia Mongiuffi e Melia. Sul suo significato si presume che Mongiuffi derivi da Mongi, ossia cocuzzolo solitario, mentre Melia si pensa sia un riferimento greco alla ninfa Melia, ninfa oceanina delle Meliadi, discendente di Afrodite, che dall'unione con la divinità fluviale Inaco, partorì Io. La storia di Mongiuffi e Melia è strettamente legata a quella di Taormina, l'antica Tauromenium, fondata nel 350 a.C. da Andromaco. In particolare, un gruppo di uomini proveniente dalla Beozia fu mandato da Andromaco nell'entroterra, in cerca di acqua e di terreni fertili. Stremati dalla fatica, decisero di fermarsi su un'altura alle spalle dell'odierna Melia e qui costruirono un grande insediamento che nominarono Polissena, in onore della figlia di Priamo ed Ecuba. Qualche anno più tardi, di fronte all'insediamento di Polissena, i greci diedero vita a un nuovo abitato e lo chiamarono proprio Melia, in onore della ninfa discendente di Afrodite. Ed è proprio su queste vallate che fu avviata la costruzione di un acquedotto di epoca greco-romana, della lunghezza di circa 25 km, per portare l'acqua, dalle sorgenti del Monte Calfa, a Taormina. Costruito con calce, sabbia e cenere, esso era così magistralmente camuffato nel terreno che gli arabi trovarono non poche difficoltà a conquistare Taormina. Dopo ben 30 settimane di assedio, fu scoperta proprio l'esistenza di questo acquedotto e dopo aver tagliato le condotte in diversi punti, costrinsero la città alla resa. La base del condotto, questo è proprio dove passava l'acqua, era qui, a forma di U comunque, che poi veniva ancora, sicuramente era sollevato, un metro, forse più basso qui, e continuava per poi andarsi ad interrare e poi partivano i veri e propri condotti. Ma le sorprese non finiscono qui, perché in quest'area si può ammirare un'interessante testimonianza della Prima Guerra Mondiale. È la Galleria di Posto Leone, situata sulla provinciale che collega l'Etoianni a Mongiuffi Melia, un tunnel lungo 65 metri realizzato da 300 giovani prigionieri austriaci nel 1918. Questa galleria, tuttora attiva, fu scavata nella viva roccia calcarea per favorire il collegamento tra mare e monte e fu realizzata pressoché a mani nude, con oggetti rudimentali, da questi giovani austriaci che le diedero le caratteristiche delle gallerie scavate nelle Alpi. Giovanni mi ha inoltre raccontato che durante alcuni lavori sulla strada sono state scoperte delle stanze, forse gli alloggi dei soldati. Quando hanno fatto le fognature di sopra che hanno scavato, allora se ne sono accorti che c'erano delle stanze a 40 cm da livello stradale. E allora siamo entrati io e un altro ragazzo, in queste stanze erano voi, e poi siamo andati a vedere se ce n'erano altre. Quando la ditta appaltatrice ha voluto coprire questa botola, perché allora gli sospendevano i lavori. Mongiuffi e Melia si presentano oggi come due borghi a vocazione agricola. Qui il tempo viene dettato ogni quarto d'ora dai campanili delle rispettive chiese. La ricchezza dell'acqua la fa da padrone, per questo qui e là si possono trovare diversi abbeveratoi di acqua dolcissima. Ad imprezzosire questi due borghi è la presenza di numerosi contrabbona e arcofie del X secolo, chiara testimonianza della presenza araba in queste zone. Si entrava lì qua, dove stanno costruendo ora sotto la contrabbona, vedi? Dove c'è la contrabbona, ora stanno... Dove si è stato prima? Interessante è anche il palazzo Corvaia, testimonianza viva di come il marchesato e la baronia di Mongiuffi e Melia furono patrimonio della famiglia Corvaia di Taormina, tra il 600 e il 700. Curiosa è anche la puttia di Giovanni Curcuruto, che nel corso della sua vita ha accumulato oggetti di interesse etno-antropologico. Cos'è per te Mongiuffi e Melia? Mongiuffi e Melia nella valle più bella del mondo. Da non perdere assolutamente nel territorio di Mongiuffi e Melia, è inoltre la valle del Ghiodaro, valle che prende il nome dall'omonimo fiume che l'attraversa, il cui nome, dato dai greci, significa dono della terra ed è dominata dalla presenza del monte Kalfa, alto mille metri. Questo luogo è davvero incantevole, in quanto lungo questa valle ci si può imbattere in svariate cascate e piccoli laghetti naturali. E questo è il cosiddetto orrido del fiume Ghiodaro. La zona più famosa è la Quadara del Drago, ma nel periodo in cui sono arrivato non era facilmente raggiungibile. Questa è quella là sotto, quindi, è quella del Drago. Le caldaie del Drago, sì. Con due piccole polle d'acqua dove ci si può truffare. Questa valle è conosciuta anche come la Valle Mariana, in quanto sono presenti tre santuari dedicate a Maria, quali il Santuario Madonna della Libera, Madonna dell'Aiuto, situato sul monte Kalfa, nel comune di Roccafiorita, e Madonna della Catena. Sebbene la costruzione dell'edificio risalga agli anni 50, esso è stato costruito vicino a un santuario preesistente. Assolutamente consigliata è la festa che si fa il primo maggio, in cui si porta in processione la statua della Madonna della Catena da Mongiuffi al rispettivo santuario, in una processione detta del saluto, in quanto la Madonna rimarrà custodita all'interno del santuario fino al primo di settembre, giorno in cui, attraverso un altro corteo processionale, la statua muoverà dall'omonimo santuario e giungerà fino a Mongiuffi. E un enorme grazie va al comune di Mongiuffi Melia e a tutte le persone che si sono rese disponibili per la realizzazione di questo video. Grazie! Ciao! Grazie!